Dino Fava alla Roma sarebbe praticamente fatta. L'attaccante casertano alla sua terza stagione in Maglia Granata avrebbe già detto sì ad una ricca proposta di Thomas Di Benedetto, il nuovo proprietario della Roma. A caccia di un attaccante disponibile ad accettare la panchina per la prossima stagione, Di Benedetto ha pensato a Fava grazie anche ad un input giunto dalla Campania. Da Siano, la terra d'origine di Di Benedetto, infatti sono giunte più segnalazioni e si sono aggiunte a quelle fatte da Joseph Kala, ex proprietario della Salernitana, estimatore di Fava ed amico proprio di Di Benedetto. Lunedì scorso Fava, accompagnato dal suo agente, avrebbe incontrato proprio Di Benedetto in un lussuoso albergo della capitale, per lui pronto un ricco contratto triennale. Da tre campionati con la Salernitana per il bravo attaccante in questa stagione, a segno otto volte, è sicuramente un'opportunità da non perdere, che gli consentirà di poter tornare a giocare di nuovo in Serie A. Fava nel frattempo avrebbe già informato la Salernitana, adesso però c'è un altro non trascurabile problema da risolvere, Di Benedetto infatti avrebbe chiesto a Fava la sua disponibilità ad un immediato trasferimento già da maggio. Di conseguenza Fava non giocherebbe le ultime partite della stagione, quelle più importanti, un problema in più per Breda nella corsa a playoff della Salernitana.